Cari amici, voi conoscete la profondità del Deep State, soprattutto del Deep State italiano, conoscete il ruolo del Vaticano, la più grande cloaca a cielo aperto del nostro pianeta, e oggi vedete Vaticano, riciclaggio, preso Broker Torzi, arrestato a Londra, su mandato del GIP del Tribunale di Roma, il Broker Pierluigi Torzi, indagato per autoreciclaggio e demissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Un giudice inglese ha convalidato l'arresto e ha fissato l'udienza fra una settimana, il 18 maggio. Si valuterà la richiesta di scarcerazione su cauzione. Torzi è il Broker finanziario già coinvolto nella vicenda della compravendita di un immobile a Londra, per il quale sotto inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria vaticana. Volevo darvi questa notizia, vi invito a iscrivervi al mio canale e a mettere il like. Alla prossima videopillolina.